Ma vi siete presentati con il mio fratello? Eh, piacere Matteo. Piacere Piero. Sandro. Piero il Bello. Piacere Nicola. Piacere Piero il Bello. Come? Piero il Bello. Ah. Vedete, siamo tu personcini educati, vi ha detto pure culo che oggi a Pasqua non c'è sta nessuno. Fammo così, ci date una cazzata. La macchina la potete portare via pure stasera, va beh? Cioè, stasera? Eh, sì, che ci frega, fammo finta che sta sorrubata, no? Dai, eh? Eh, quanto sarebbe sta cazzata? Ma che ne so, una cazzata, fammo diecimila euro. Come diecimila euro? Le diecimila euro sono tantissime. Ma che c'è la diecimila euro? Allora mi devo incazzare. Ah. No, no, no. E poi ci ho pulito i danni morali per mio fratello. Niente che sto qui a farmi crescere i capelli, questo mi si è spaventato. Finché non vedo gli sordi, la macchina da qui non si muove. E mo' andate venne a fanculo che dovevo mangiare, forza. Beh, andate. Via! Ma che hai fatto? Che ho fatto? Ma che senso c'ha questa carbonara? C'hai messo la cipolla e bobbetta, l'avevo pure detto. Ma la Chiara no. E chi ha detto che non c'era la Chiara? Ma se sai Piero, lo sanno tutti.